Quanto portammo, dopo che facciamo tutti i preparativi, cioè dove disporre la salma con la bara, cominciamo a portare la bara dalla cepa, scendere giù per le scale, andare in sacrestia e poi per mettere l'esposta in chiesa. Non erano ancora pronti in chiesa, quindi portiamo momentaneamente la bara con la salma del padre.